Ester, capitolo secondo Le fanciulle vergini e belle Alla residenza reale di Susa Nella casa delle donne Sotto la sorveglianza di Egai Enuco del re, guardiano delle donne Che darà loro i cosmetici Di cui abbisognano E la fanciulla che piacerà al re Diventi regina invece di vasti La cosa piacque al re E così si fece Or nella residenza reale di Susa Vera un giudeo per nome Mardoccheo, figliuolo di Jair Figliuolo di Shimei Figliuolo di Chis Un beniaminita Che era stato menato via da Gerusalemme Fra gli schiavi trasportati in cattività Con Geconia, re di Giuda Da Bucadenestar, re di Babilonia Egli aveva allevata La figliuola di suo zio Adassa Che è Ester Perché essa non aveva né padre né madre La fanciulla era formosa E di bell'aspetto E alla morte del padre Della madre Mardoccheo L'aveva adottata Per figliuola Come l'ordine del re E il suo editto Furono divulgati E un gran numero di fanciulle Furono radunate Nella residenza reale di Susa Sotto la sorveglianza Di Egai Ester fu menata anch'essa Nella casa del re Sotto la sorveglianza Di Egai Guardiano delle donne La fanciulla Piacque A Egad Ed entrò Nelle buone grazie Di lui E S'affrettò A fornirle I cosmetici Di cui Ella aveva bisogno E i suoi alimenti Le diede sette donzelle Scelte nella casa del re E assegnò a lei E alle sue donzelle L'appartamento migliore Nella casa delle donne Ester non aveva detto nulla Né al suo popolo Né del suo parentato Perché Mardokei Le aveva provito Di parlare E Mardokeo Tutti i giorni Passeggiava davanti Al cortile Della casa delle donne Per sapere Se Ester stava bene E che cosa Si farebbe di lei Or quando veniva La volta Per una fanciulla Ad andare dal re Assuero Alla fine Dei dodici mesi Prescritti Alle donne Per i loro preparativi Perché tanto Durava il tempo Dei loro preparativi Sei mesi Per profumarsi Con olio di mirra E sei mesi Con aromi Ed altri cosmetici Usati dalle donne La fanciulla Andava dal re E le si permetteva Di portar seco Dalla casa delle donne Alla casa del re Tutto quello Che chiedeva Vandava la sera E la mattina di poi Passava Nella seconda Casa delle donne Sotto la sorveglienza Di Sha'az Gads E nuco Del re guardiano Delle concubine Ella Non tornava più Dal re A meno che Il re Non la desiderasse Ed ella fosse Chiamata Nominatamente E quando Vennele la volta Per Esther La figliola Di Abihail Zio di Mardoccheo Che l'aveva adottata Per figliola D'andare D'andare dal re Ella non mandò Altro fuori Di quello Che le fu indicato Da Egai E Nucco Del re guardiano Delle donne Ed Esther Si guardagnava Il favore Di tutti quelli Che la vedevano Esther fu dunque Condotta dal re Assuero Nella casa reale Il decimo mese Che è il mese Di Tebet Il settimo anno Del regno Di lui E il re Amò Esther Più di tutte Le altre donne Ed ella trovò Grazie e favore Agli occhi di lui Più di tutte Le altre fanciulle E le pose in testa La corona reale E la fece regina In luogo di vasti E il re Fece un gran convito A tutti i suoi principi E ai suoi servi Che fu il convito D'est Concedete sgravi Alle province E fece doni Con munificenza Di re Or La seconda volta Che si radunavano Delle fanciulle Mardoccheo Stava seduto Alla porta del re Esther Secondo l'ordine Che Mardoccheo Le aveva dato Non aveva detto Nulla Né del suo parentado Né del suo popolo Poiché Ella faceva Quello che Mardoccheo Le diceva Come Quando era sotto La tutela di lui In quel giorno Come Mardoccheo Stava seduto Alla porta del re Bitta E Teresh Due enucchi del re Di fra le guardie Della soglia Irritatisi Contro re Assuero Cercarono D'attentarli Alla vita Mardoccheo Avuto sentore Della cosa Ne informò La regina Esther Ed Esther Ne parlò Al re In nome Di Mardoccheo Investigato E verificato Il fatto I due enucchi Furono appiccati A un legno E la cosa Fu registrata Nel libro Delle cronache In presenza Del re Di Mardoccheo Di Mardoccheo